Un saluto da Ninna e da Matti! Non ti senti un po' atletico oggi? Ehm, no. Perché? Io sì. Cosa dobbiamo fare oggi, Ninna? Yoga. Hai capito bene? Così? No. Il vero yoga. No! Quelle cose strane con le braccia, le gambe mezze intrecciate, tipo... No, 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 no! Però? Le ho viste da tutto il mondo ma non le ho... Cosa vuoi dire con questo? Yoga con le manette. Ma se noi non sappiamo, non siamo neanche capaci a fare cinque flessioni, come facciamo a fare yoga, challenge, addon, cosi, con le manette? No, 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 ci proveremo. Quindi, cioè, dobbiamo fare delle posizioni strane e già quello, non chiedermi come faremo perché io sinceramente non lo so. E in più dobbiamo fare anche delle manette, dobbiamo avere anche le manette. Esatto. Se ci riusciamo, se no, ce le leviamo, ovviamente. Cioè, se uno ha la testa di l'animo, da l'altra parte... Anche perché la distanza massima a cui potremmo stare è questa. Esatto. Quindi, vabbè, oh, non... Ah, vabbè, dai, non è male. No, non mi tirare. Non ti devo tirare, è vero. Comunque, dai, noi ci proviamo come va, va. Fateci sapere se questa challenge può piacervi e, Ninna, partiamo con la prima posizione. Hai paura? Sì, ma le posizioni, come le facciamo? Un attimo. Non partiamo proprio easy. Oh, mamma mia. Però, aspetta. Non mi far cadere, però. Dobbiamo cambiare braccio. Perché? Eh, perché, se no, come faccio a incrociarlo? Secondo me si può fare, eh? Sì. Allora, io mi devo mettere così, giusto? Non me ne ricordo più io. Ah, cane, cane. Quindi io mi metto. No, non ce la faccio con le manette. Sì, sì, ce la fai. No, aspetta, ma io sto... C'è qualcosa che non va. E non sei così. Tu sei a cane. Sì, tu devi stare davanti a me. Eh, ma sei a cane. E io devo stare così. Ah, no. Dai, sei a cane. Ah, ma è così? Senti, devo stare. Oh, senti. Ok. Ah, devo alzare il culo. Brava. Ok. Perché io vorrei allontanare un po'. Ah, devo tirare. Posso... Così, così. Ah, no, 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 è così. Direggi? Sì. Vai. Brava. Bravissima. Ce l'abbiamo fatta. Il problema è che non abbiamo le manette, Ninna. Eh, ma perché le mani sono troppo lontane. Ma loro ce l'hanno vicina. Adesso dovresti avvicinarti più a me. Prova. Ma perché te non l'hai fatto? Non l'ho fatto. Brava. Dobbiamo unire le manette ora. No, non cadere. Non cadere. No. Lo faccio io. Lo faccio io. No, Mattia. Ce la faccio. Guarda, guarda. No, sì. Basta. Allora, diciamo che per un attimo ci siamo toccati con le manette, eh. Se non mi scivolava, mi giuro. Quanto è difficile. No, no, non hai capito. Se non mi si toglieva ce l'avevamo fatta, eh. Ah, si è tolta. Sì, se non ce l'avevamo fatta. Mentre la metteva a me mi si è staccata. Che sfortuna. Però dai, ci siamo riusciti. Ora però dobbiamo, oh, entro la fine del video dobbiamo riuscire a farne almeno uno con le manette. Ok. Per forza. Questo, vabbè. Questo è stato a metà. Praticamente le manette si sono toccate. Ok, questa è fatta bellissima. Questa sono le manette. Allora, fammela rivedere un secondo perché io ho un problema. Appena vedo una cosa già me la dimentico. Fammela rivedere. Dobbiamo avere le gambe così, in avanti. No. Sì. Ragazzi, vi prego, spiegategliela. Allora, ci dobbiamo tenere la mano. Dai, ce l'avevo. C'era, eh. C'era. Proviamoci l'ultima volta. Ce l'avevo. Ce l'avevo. Vanina. Aspetta. Lontan, allontanate. Esatto, non mi devo allontanare. No. Vai, così. Oh, fatta. Ce l'avevo fatta. Io non ho staccato la mano da terra, però... Però ce l'abbiamo fatta. Bravi. In questa, mi dispiace un attimo, ma devo levogarti la caviglia. Pure la caviglia, mi devi togliere. Sì, perché... Togliere. Legare. Come facciamo, scusa? Perché io sarò con le mani praticamente attaccate alle tue caviglie, quindi... Ah, quindi avrò la caviglia ammalettata dal tuo braccio? Credo di sì. Oh, 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 ok. Iniziamo. Ah, fammelo vedere che ancora non l'ho visto. Cioè, in realtà l'ho visto, ma me lo so dimenticato. Ah, vabbè, io non devo fare niente qui, devo solo venerti legato. Tranquilla, mi chiamano... John Cena. Zorba, tu non fai parte... Zorba, ti devi spostare da qui, non fai parte del video. Vuoi farlo anche tu? Vai, facciamolo insieme. Ok, perfetto. Benvenuta. Va bene, adesso facci fare yoga, che già la situazione è complicata. Ragazzi, la... Mattia ha le capiglie troppo grosse, quindi non si chiude, comunque siamo legati. Vabbè, sì, diciamo che l'importante è che io abbia la manetta. Secondo me tu devi mettermi prima le gambe qua, così io te le prendo e ti alzo. Ok? Easy, easy. Diciamo che le manette che abbiamo preso non è che siano proprio il massimo, eh. Se ci volete regalare delle manette davvero puliziotte le accettiamo volentieri. È vero, sarebbe un sogno. Brava. E io intanto ti prendo la capiglia. Bravissima. E già secondo me questa potrebbe andare bene, però adesso lo ci proviamo. Ti devo spingere leggermente più avanti, giusto? Non lo so. Resisti? Era così? No? Il culo un po' più avanti. Brava, eccola, eccola, eccola. Piano piano, piano. Ragazzi, un applauso perché abbiamo appena fatto la... Ma Zorba dov'è? Zorba, ti devi le mani! Vabbè, mettiamola sul segretario. Ciao! Zorba, ti devi le mani! Siamo pronissimi. Per queste due posizioni abbiamo dovuto cambiare location. Sì. Perché sì, per problemi di organizzazione e te Ferpa per problemi di pulizia. Ci hanno semplicemente sfrattati. Quindi il salone non è più disponibile. Ehm, sei pronto? No. Ti fa male la schiena? No. Bene, ti farà male dopo. Ecco, non vorrei che mi facesse male, volevo dire. Però dai, vabbè, dai, incominciamo. Grazie del bacino. No, vai un po' più là. Eh no, devi andare in fondo. Sì, vai così. Vai in fondo. Oh, la bigota. Non mi spingere, aiutatevi. Ok. Vado, eh. Ok. Aspetta. Vai, spingi. Vabbè, più o meno, dai. Più o meno. Aspetta. Top. Oh. Oddio. Mi sono incastrato. Aiuto. 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 Aspetta. Salvami. Dai, questa è riuscita. Ok, questa possiamo modificarla un po'. Ci sai? Tanto lo sai che io non me ne ricordo. Non penso si fa. Vabbè, fatta, ragazzi. Ah, le manette. Devi seguire le mie braccia. Che devo fa'? Devi seguire le mie braccia. Vai. Ecco. Ecco. Non mi fare il solletico, però. Vai. Tre, due, uno. Ok. Uno, due, tre. Stop. Andate. Ancora. No, basta. Oh, ragazzi. Stiamo migliorando la grande. Bravassimi. Bravassimi. Stiamo bravissimi. Ok, leva queste cose e non levo. Hai capito cosa devi fare tu? Brava. Più o meno. Adesso io dovrei riuscire a... Esatto. E tu... No, dobbiamo levarci le parete. Non ce la facciamo. Alta la gamba. Leva le parete. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo unire le gambe. Eh? Dov'è? Levo, levo, eh. Io dovrei fare... Ehi! Così e dobbiamo prenderci le braccia. No, le braccia. Le... Tira... Ti sto spezzando? Tira un po' sulle ginocchia se riesci. Brava. Oh, è andata, eh. È andata. Presta. Oh. Vedete, ragazzi? In realtà abbiamo fatto anche questa con le manette, no? Fatto. Sto morando. Ti sei fatta male? No. Ah. Però mi hai fatto così. Mi hai fatto così. Mi spiagli. Senti, io voglio una nuova partner di yoga, se permetti, eh. Sì, anch'io dato che ho fatto tutto io, te sei stato solo seduto e basta. Vabbè, Zorba, vieni. Tocca a te. No, non scappare. Adesso ci servi. Cosa gli facciamo fare? Niente. Allora, io mi metto, mi metti Zorba sopra. Vai. Ottimo, che strada. No, è Zorba. Vai. Bravissima, Zorba. Va. No, niente, non ti piace proprio. Dai, comunque alla fine siamo bravi. Sì, sì, non ce la siamo davvero male. Potremmo andare a insegnare a tutte le persone che ci seguono lo yoga. Adesso non ti allargare, forse ancora no. Però io sinceramente pensavo di fare di per... Vabbè, in realtà io non ho fatto niente. Ti ho solo tenuta lì. Ti ho solo seduto. Vabbè, oh, quando ti ho tenuta le gambe anche per me non è stato semplice. Detto questo, speriamo che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e fatevici sapere se volete anche un altro yoga challenge di Nina e Matti. Yes. Matti 5. Noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video. E ciao ragazzi. Ciao. Ma vedi che loro hanno il sedere tipo spostato? Aglia. Al senso, è con calma. Il mio sederino. Noi mammas. Bravo. bravo